Questo è il passaggio, quello è il nucleo interno della carbonaia di terra San Bruno. E poi man mano viene ad aumentare e poi sarà alimentato, sarà tutto coperto di fuori da terra in modo che il carbone, il legno non si bruci e non diventa pieno. Preparazione di una carbonaia.